Anche Aurora Ramazzotti intrappola su una freccia rossa in questa giornata da dimenticare per i viaggiatori. Sulle sue stories di Instagram la figlia di Eros e Michelle Unzicher ha postato un'immagine con volto corrucciato, lei è quello di un'amica, stessa espressione, aggiungendo una pesante accusa, cara Trenitalia, con rischio di sembrare petulante vi chiedo, ma con tutti i soldi che vi diamo almeno un servizio che non faccia ritardi disumani 8 volte su 10 ci è concesso? Tra i viaggiatori penalizzati oggi anche il governatore della Toscana, Enzo Rossi, che ha lamentato approssimazione e scarsa informazione da parte di Trenitalia.